Nuova stagione, nuova avventura, Andrea Ferraris, la maglia bianca-azzurra dopo tanti gol con la primavera del Monza e dopo aver assaggiato il calcio dei grandi con la Juventus. Sì, sono emozionatissimo di essere qua, per me è un onore vestire questa maglia, questi colori, non vedo l'ora di scendere in campo all'Adriatico, per me è un onore essere qui, non vedo l'ora di iniziare. Raccontaci un po' chi è Andrea Ferraris. Andrea Ferraris è un ragazzo molto umile, solare e con la testa sulle spalle, quindi aspetto solo che iniziamo a giocare per dimostrare il mio valore, per dare una mano ai compagni, sperando appunto di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. Tanti gol con la primavera del Monza, vedi la porta e questa è una caratteristica molto importante, puoi giocare in tutti e tre i ruoli lì nel 4-2-3-1 di Baldini a supporto della punta? Sì, diciamo che questa è una caratteristica che mi ha sempre contraddistinto, non mi faccio problemi, non ho preferenze, quindi dove mi mette il mister io sarò pronto a dare il mio contributo. Se dovessi scegliere tu dei tre, dietro la punta, qual è il ruolo dove riesci meglio? Ma non ce n'è uno in particolare, però forse proprio perché l'anno scorso ho fatto il trequartista, preferirei appunto giocare dietro le punte, ma ripeto è indifferente, l'uno vale l'altro. Raccontaci un po' quando il mister ti ha detto tocca a te con la Juve. Ma per me è stato qualcosa di inspiegabile, ancora adesso faccio fatica a rendermene conto, mi ricordo solo le parole del mister Palladino che ringrazio ancora tanto, che mi ha dato fiducia e per me una volta entrato in campo è come se non sentissi nulla, stavo proprio in una bolla. I primi giorni di quest'estate con Pino Calabria, il tuo agente, come è uscita fuori la voce di Pescara e cosa hai pensato quando Calabria te l'ha detto? La voce è uscita bene o male subito, mi ha raccontato che era pranzo appunto col presidente, io ero a Milano in quel momento perché avevo iniziato il ritiro a Monza e appena mi ha detto dell'interesse che si era trovato l'accordo non ci ho pensato due volte, per me è un onore vestire questa maglia e non vedo l'ora di scendere in campo. L'ultima, dieci giorni con Baldini, le tue sensazioni? Sono positive, il mister è molto bravo, è molto preparato, ci sta facendo lavorare tanto, mi piace appunto che per lui la cultura del lavoro viene prima di tutto e quindi mi sono messo a disposizione fin dall'inizio e adesso pian piano stiamo cercando di cogliere quello che ci sta chiedendo e di metterlo in pratica anche solo a partire da oggi.